La chiusura della scuola materna di Matrignano continua a far discutere e sono i genitori di bambini, come prevedibile, i più contrariati dalla decisione del comune di Arezzo. Come dimostra questa lettera di due di loro arrivate in redazione. Siamo due genitori relativamente giovani, inizia la lettera. Oggi è difficile organizzare una casa e è ancora più difficile mettere al mondo un figlio. La nostra bambina il prossimo anno andrà alla materna. Abbiamo fatto tutte le pratiche, presentato le domande, lette le graduatorie. Lo ammettiamo. Quando abbiamo visto il suo nome nella lista della scuola di Matrignano abbiamo tirato un sospiro di sollievo e siamo rimasti contenti. Andrà alla materna, ci siamo detti. Il vice sindaco ha dichiarato che la scuola non è a norma per le leggi antisismiche e che il comune non intende spendere i soldi necessari per la ristrutturazione. Punto. Cioè, il suo pensiero è chiaro. Rimettere le mani sulla scuola, anche se il progetto è già nei piani del comune, non è più tra le sue priorità. Noi pensiamo a nostra figlia che si è vista sottrarre da un minuto all'altro quel diritto che le stesse istituzioni l'avevano assegnato. Ma pensiamo anche ai bambini che in questo momento sono a Matrignano. E ci domandiamo. Sono al sicuro? Perché oggi si tiene aperta una scuola che non verrà riaperta a settembre? Il pericolo scatta in autunno? In primavera e in estate non ci sono terremoti? La politica, concludono i genitori, ci interessa poco. Noi guardiamo all'istituzione che ci rappresenta e ci governa. Questa istituzione è inserito a Matrignano tra le scuole utilizzabili, ha aperto e chiuso le iscrizioni, ha fatto una graduatoria. Pensiamo sia suo dovere fare nella pausa estiva i lavori necessari e far rientrare i bambini a settembre. Facciamo fatica a immaginare altre soluzioni che siano rispettose delle famiglie e dei bambini. Come abbiamo scritto all'inizio, essere genitori oggi è veramente difficile. Evitiamo un peso ulteriore, essere presi in giro.